Sono andato dall'osteopata. Grazie all'osteopatia ho risolto il mio mal di schiena. Grazie alle manipolazioni non prendo più antidolorifici. Queste sono frasi che ormai senti dire sempre più spesso alle persone che conosci. E' questo perché l'osteopatia in Italia si sta diffondendo tantissimo soprattutto presso quella cerchia di persone che preferisce curarsi senza farmaci. Ma che cos'è l'osteopatia? Da dove viene? Chi l'ha inventata? Sono il dottor Carlo Conte osteopata e oggi voglio guidarti in questo splendido viaggio che l'osteopatia ha fatto dall'America fino ad arrivare qui. Ti racconterò della storia, dell'affascinante storia del suo fondatore Andrew Taylor Steele, un medico che ha sfidato le grandi lobby del suo tempo per amore dei suoi figli fondando questo nuovo modo di fare medicina. Erano gli anni della guerra civile americana. Siamo poco dopo la metà del 1800 quando il dottor Andrew Taylor Steele venne convocato per essere chirurgo militare presso l'esercito. Devi sapere che in quel periodo la chirurgia era veramente agli albori. Gli strumenti chirurgici erano piuttosto rudimentali, più simili agli strumenti di un fabbro che a quelli di un dottore. Le amputazioni erano all'ordine del giorno e spesso gli interventi chirurgici si concludevano con la morte del paziente, in questo caso del soldato. Infatti erano molto frequenti le infezioni post chirurgiche e non esistendo ancora gli antibiotici, spesso il paziente appunto veniva perso. E fu proprio questo clima di guerra, di fallimenti chirurgici che iniziarono a mettere nella mente di Steele il seme della sfiducia nei confronti della sua medicina contemporanea. Terminata la guerra civile, Steele tornò nel Kansas dove visse per circa 20 anni. Devi sapere che in quel territorio c'era una riserva indiana, la riserva degli Shauni, una tribù di Indios con la quale Steele entrò in strettissimo contatto, si dice addirittura che imparò la loro lingua. Ora non ci sono prove che Steele avesse imparato anche delle tecniche, dei metodi di cura tipici di questa antichissima cultura, ma è molto probabile che molte delle intuizioni che Steele avrà negli anni a seguire derivino proprio dall'incontro con questa cultura Indios, con i loro rimedi naturali e con le tecniche sciamaniche. Ma l'evento, la tragedia che più di tutti ha segnato Steele nella sua vita è stata sicuramente la perdita dei suoi tre figli. Avevano rispettivamente 11, 9 e 7 anni quando una meningite nonostante le cure mediche li portò via nell'arco di sole due settimane. Questo ha segnato profondamente Steele, ne uscì distrutto, lacerato dal dolore e con una completa sfiducia nei confronti della medicina classica. Di lì in poi Steele passerà tutta la sua vita a studiare e ristudiare i test di anatomia e fisiologia per fondare un nuovo modo di fare medicina, per cercare trovare delle soluzioni che non prevedessero l'utilizzo di farmaci. In quel periodo infatti anche i farmaci erano dei veri e propri veleni per i pazienti. Venivano utilizzati l'arsenico, il whisky, la cocaina per curare le persone. Steele invece aveva un profondo rispetto per il corpo umano. Steele diceva il corpo è la farmacia di Dio perché al suo interno ci sono tutti i meccanismi e tutte le sostanze che possono promuovere la guarigione. Steele doveva quindi trovare il modo di liberare questi meccanismi bloccati permettendo alle sostanze di arrivare lì dove ce ne sarebbe stato bisogno. La prima grande intuizione che ebbe Steele fu quella di manipolare le articolazioni mal posizionate. Riportando infatti con la manipolazione un'articolazione in asse avrebbe consentito il libero fluire del sangue, della linfa e degli impulsi nervosi. Proprio grazie a questa importanza che Steele dava alle articolazioni e alle ossa venne coniato il termine osteopatia che dal greco significa appunto sofferenza della struttura, sofferenza dell'osso. Quindi la grande differenza che subito si stabilì con la medicina classica fu quella che mentre la medicina classica andava semplicemente a cercare di spegnere il sintomo attraverso l'uso di sostanze chimiche, l'osteopata avrebbe dovuto ricercare quella che era la causa, il blocco, rimuoverlo facendo ripartire appunto quelli che sono i meccanismi di autoguarigione del corpo. Quando Steele presentò queste teorie al mondo accademico dell'epoca, inutile dire che venne ampiamente ostracizzato, venne accusato di essere uno sciamano, un eretico, addirittura di imitare Gesù per l'imposizione delle mani. Fu costretto quindi ad espatriare e dal Kansas si trasferì nel Missouri. Effettivamente era un personaggio molto avanti per l'epoca in cui affermava appunto queste teorie e come spesso accade le menti brillanti vengono sempre messe al ruogo dagli intellettuali del loro tempo. Nonostante questo, Steele ottenne un grandissimo successo con i pazienti. Nel Missouri iniziò a fare da vero e proprio medico itinerante, erano così tante le richieste dei pazienti per i risultati ottenuti che si dice restasse fuori casa addirittura per mesi. Venne conosciuto in tutto lo stato come la giusta ossa. Quindi sommerso di lavoro e pieno di risultati positivi, Steele all'età di 64 anni decise di fondare a Kirksville per la prima volta una scuola di osteopatia e quindi di insegnare i propri metodi, le proprie tecniche ad altri medici. Il primo anno di scuola ebbe cinque studenti, il secondo anno furono già in 30 e solo a distanza di cinque anni dalla fondazione della scuola il titolo di doctor in osteopati venne riconosciuto ufficialmente già in tre stati degli Stati Uniti d'America. Il dottor Steele morì all'età di 89 anni dopo una vita che lo aveva messo dinanzi a tantissime sfide. Steele da queste sfide riuscì a trarre la forza e la spinta per andare avanti, per creare qualcosa di nuovo, per andare contro un sistema che ha provato in tutti i modi ad ostacolarlo e che non ci è riuscito. Perché le grandi idee nel tempo non possono fare altro che affermarsi. Oggi l'osteopatia è molto cambiata, si è molto perfezionata rispetto a quando il vecchio dottore mosse i suoi primi passi nel Missouri come a giusta ossa. È una disciplina ormai riconosciuta in gran parte del mondo, dagli Stati Uniti al Canada, dall'Australia passando per mezza Europa. Altre tecniche e altre ricerche si sono aggiunte al bagaglio dell'osteopatia tradizionale, quindi la terapia craniosacrale, la manipolazione viscerale, che non hanno fatto altro che rendere questa medicina ancora più efficace, ancora più innovativa e ancora più unica rispetto alla medicina convenzionale. Se questa storia ti ha appassionato e vuoi saperne di più, ricorda che questo è solo l'inizio di un viaggio che faremo insieme attraverso l'osteopatia. Ti invito quindi a iscriverti al mio canale, ricordandoti inoltre che puoi ricevere informazioni ogni giorno mettendo like alla mia pagina Facebook Studio di Osteopatia Conte e che ogni primo martedì del mese potrai trovare un mio articolo dedicato alla medicina alternativa sul giornale online Cultura a Colori. Per maggiori informazioni troverai tutti i link in descrizione al video. Alla prossima! Grazie a tutti!